Il giorno dopo la grattata milionaria di Adano non si è spendo l'entusiasmo per la pioggia di euro giunta ad Adano grazie al tagliando fortunato di 5 euro della lotteria istantanea, turista per sempre. 1.740.000 euro cambiano la vita a chi li ha vinti e portano allegria nella rivendita di tabacchi dove è stato acquistato il fortunato gratta e vinci. Questa mattina siamo tornati nel tabacchino di Via Roma. Di Adano non sono arrivati i dolcini come sperava il titolare della rivendita e del fortunato vincitore ovviamente neanche l'ombra. In compenso oggi tanti curiosi in Via Roma e altri 1.000 euro vinti. Francesco Polverenti si è sentito qualcuno oggi, qualche vincitore, niente? No, stamattina niente, però tanti curiosi sono venuti qui a chiedere, a informarsi della vincita milionaria. Non ne ha mandato neanche i dolcini che speravi? Ancora no, speriamo che si fa sentire ma soprattutto che avrà tanta felicità sia per la vincita milionaria sia anche felicità nel senso di fare un po' di beneficenza e soprattutto che la felicità non è solo i soldi ma è importante anche la famiglia. Quindi sperando che utilizzerà questi soldi a fin di bene perché fare del bene porta bene. Tu mi dicevi poco fa che ieri sera avevi qualche sospetto sul vincitore, parlavi di un anziano poi l'hai visto qua e hai detto non è lui. Sì, sì, infatti poi ieri sera era qui con noi a festeggiare, chissà può essere anche lui ma l'importante è che qualcuno che ne aveva bisogno e che utilizza questi soldi a fin di bene. È aumentata la vendita dei biglietti del turista per sempre? Sì, stamattina è già prestissimo, sono venuto a comprarsi i biglietti soprattutto del turista per sempre hanno vinto anche 1.000 euro con il max miliardario quindi stamattina con il max miliardario speriamo che la debbendata è ancora qui con noi. E aveva mai giocato il turista per sempre? No, turista no, normale, Greta e Vinci è normale. Però diciamo che è una modalità positiva, questa delle premie dato non tutto in un gol, penso che dice? Può essere un modo diverso per spendere di meno con calma e con un certo ragionamento. Viene gestita meglio così la vincita? Speriamo che duri queste vincite. Lei sta leggendo l'articolo sulla vincita di Adrano, eh no? 5 euro diventa ricco. Come commentiamo questa notizia, un po' di fortuna? Specialmente che è stata ad Adrano, almeno è un paesano. Ma c'è finta che hai il vincitore di fronte, che sta vedendo la televisione e la sta ascoltando? Cosa gli vuole dire? I miei migliori auguri è di saperle spendere. Sentiamo il titolare del bar accanto alla rivendita di tabacchi. Insomma c'è stato un po' di movimento sia ieri sera ma anche questa mattina qui. Sì, rispetto ai tre giorni c'è stato un po' di movimento perché tutta la gente curiosava, cercava di trovare che fosse fortunato, ma purtroppo non si trova. E gli auguriamo tanti auguri e tante felicità al fortunato che ha vinto questa grande vincita.